Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Con le sue partecipazioni in Mediaset, Mediolanum e Mondadori e la gallina dalle uova d'oro, circa 4 miliardi di patrimonio netto. Al momento il 61% è in mano a Berlusconi, il resto diviso equamente tra Pier Silvio, Luigi, Barbara, Eleonora e Marina, la figlia maggiore. Avuta dalle prime nozze con Carla Elvira Dall'Oglio e anche la presidente della società. Sa perché sono più vicino a Marina? Perché mi è diventata anche oltre che figlia direi sorella e madre. Ed è sempre Marina a dirigere una delle tre M quotate in borsa, la Mondadori. Al centro, negli anni 90 della guerra di Segrate tra Berlusconi e De Benedetti, oggi è un colosso editoriale da quasi un miliardo di euro. Fininvest ne possiede il 53,3%. Ma il gioiello della corona, il più prezioso, è Mediolanum, vale oltre 6 miliardi di euro, due terzi appartengono alla famiglia Berlusconi. Il stallone d'Achille dell'eredità del Cavaliere si chiama invece Mediaset guidata da Pier Silvio. Dal 2015 ha perso il 25% delle sue entrate. Gli eredi dovranno decidere se tenersi un'azienda in declino o cederne il controllo. Tra i pretendenti si parla già della francese Vivendi. E poi il Monza Calcio, il Teatro Manzoni, ma il regno di Berlusconi non tramonta qui. Chi non vive Berlusconi a casa, disponendo di 20 case, non saprei in quale andare. Già, le case, secondo ramo dell'impero. Da Villa Zeffirelli a Roma, Villa Lamparacan, un arcipelago in parte raggruppato sotto l'ombrello della holding Dolce Drago. Berlusconi ne possiede il 99,5%, le briciole a Pier Silvio e Marina. Valore totale 650 milioni di euro. Ed ecco Villa Certosa, il buon retiro in costa smeralda del Cavaliere. La Camp David italiana, 100 ettari di parco, calpestati un tempo anche da Putin, Bush, Tony Blair. Valore di perizia, 300 milioni. Senza contare gli altri vascelli personali, Villa San Martino ad Arcore, Villa Campari sul Lago Maggiore. Come sarà divisa la torta lo svelerà il testamento, anche per Marta Fascina, accanto al Cavaliere fino alla morte. Con lei il 22 marzo scorso le nozze furono solo simboliche.